Sì, no, sicuramente giocare un mondiale è il sogno di tutti i giocatori, tutti i bambini. Sono dei momenti che rimangono sicuramente nella testa di tutti quanti per tutta la vita. Niente, sicuramente ho avuto questa fortuna di affrontare grandissimi giocatori, grandissime nazionali. E niente, è un'esperienza, penso, comunque positiva, il nostro plan minimum abbiamo fatto, quindi niente, poi lunedì sono rientrato. Non è stato facile anche a livello di viaggi, comunque di cambio di clima, perché parliamo proprio di climi diversi, però, niente, sono riuscito a fare di tutto per ambientarmi al meglio e tornare ad aiutare la mia squadra e i miei compagni. No, non lo so, no, siamo una squadra, quindi comunque sicuramente, come l'ho detto prima, sto facendo di tutto per aiutare la mia squadra. Come l'ho detto prima, lunedì sera tardi sono rientrato da Doha a Varsavia e poi martedì pomeriggio sono rientrato in Italia da Varsavia e niente, mercoledì sono venuto qua di dare una mano a mia squadra. Rispondendo alla prima domanda, no, niente, sicuramente anche noi, diciamo, giocatori più esperti, siamo, penso comunque in tutti i spogliatori, siamo per quello per aiutare i ragazzi, magari giovani, di crescere. Spero che anche Riccardo qualcosa può prendere da me nel futuro, quindi nella sua crescita penso che posso dargli qualche consiglio, se quello è possibile. Poi secondo, come l'ho detto prima, Sonia sicuramente ho avuto questa fortuna di vederlo nello spogliatoio a Monaco, che abbiamo giocato insieme, quindi anche prima della partita, dopo partita ci siamo scambiati le maie, qualche parola. Comunque con Kylian rimango da quando sono partito da Monaco, si sono sempre rimasto in buon contatto, in buone relazioni, quindi comunque è un giocatore top 3, top 5 al mondo oggi, quindi sicuramente è un giocatore che vale tanto. E niente, farò il tifo per loro perché, ripeto, ce l'ho parecchi giocatori in Francia con i quali ho condiviso lo spogliatoio a Monaco, quindi sicuramente farò il tifo per loro. Ma no, 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 niente, perché Pasquale in ultimi momenti voleva fare dribbling in mezzo al 3 al limite aria, quindi non ricordo già cosa l'ho detto, ma sicuramente niente di male. Se l'ho detto qualcosa, ridendo scherzando, che non può mollare ora perché mancavano davvero pochi minuti. Alla fine è questa vittoria che vale tanto per noi, quindi questo è stato per noi importante. Ora, secondo me, la partita più importante sarà quella di domenica contro Cittadela, perché oggi abbiamo fatto, è vero, abbiamo fatto una bella vittoria, un bel passo, ma penso che se non confermiamo domenica questa vittoria oggi non vale niente, quindi invece se riusciamo a confermarci domenica questa vittoria di oggi vale praticamente doppio. Quindi niente, ora riposiamoci un po', io mi riposo un po', perché come l'ho detto prima a Sonia, ho fatto in questi due o tre giorni 10.000 chilometri tra viaggi aerei e tutto quanto, quindi anche a livello, ripeto, di clima, comunque c'è la differenza di 30 gradi, che non sono pochi, niente, ho bisogno di riposarmi un giorno o due giorni e domenica se avrò possibilità di scendere in campo darò di nuovo massimo. Non so, questo penso che sono le cose, non so, penso che queste cose sono naturali, ho avuto anche questa fortuna, questo piacere, questo privilegio di essere anche capitano a Torino per parecchi anni, anche a Monaco dove sono stato capitano per due anni, ho condiviso lo spogliatore con grandissimi giocatori, quindi a volte gestirli non è semplice, però niente, ripeto, penso che queste cose sono più naturali, e o ce l'hai o non ce l'hai, quindi ripeto quello che ti ho detto prima, sono qui anche per quello, per dare un po' di tranquillità ai miei compagni, a quei ragazzi giovani come Riccardo, come Cristian, soprattutto, che spero che possano prendere qualcosa da me in questi momenti, soprattutto in momenti di difficoltà, perché quando le cose vanno bene, diciamo è tutto molto più facile, molto più semplice, invece quando c'hai certi momenti di difficoltà, lì bisogna dare qualcosa in più e penso che questi giocatori più anziani, più esperti lo stanno facendo. Ho ricevuto tantissimi messaggi, quindi spero che anche io qualche gioia, purtroppo l'Italia non c'era, quindi anche della nostra nazionale ci sono tantissimi giocatori che giocano in Italia, in Serie A, io sono a Benevento, quindi comunque gli italiani avevano sua seconda squadra a Polonia, dove, ripeto, c'erano tantissimi giocatori tra le virgolette italiani, quindi grazie sicuramente, ringrazio tutta la tifoseria beneventana e domenica ci vedremo allo stadio.